Il principe Ferri e Meghan Markle sono stati acclamati i Kardashian di Windsor Palace per le loro mosse intelligenti a Hollywood, dicono i professionisti della pubblicità al Daily Express US. Il principe Ferri e Meghan Markle sono stati elogiati dagli esperti di pubbliche relazioni nel mondo dello spettacolo per le loro scelte di carriera abilmente realizzate a Hollywood. Il duca e la duchessa hanno recentemente speso 3,8 milioni di dollari per acquistare i diritti di un romanzo romantico, progettando di trasformarlo in un film su Netflix. Al loro debutto come produttori, gli ex membri della famiglia reale, sperano di creare un film sul romanzo romantico di Carly, Fortune e Meet Me Atzelache. Dopo la loro serie di documenti di grande successo con il sito di streaming, i professionisti della pubblicità definiscono la decisione di Ferri e Meghan una mossa intelligente. Gli esperti dicono al Daily Express US che il piano astuto della coppia è così buono che sono stati paragonati a Kim Kardashian e alla sua famosa famiglia. Gli addetti ai lavori hanno paragonato il nuovo accordo di Ferri e Meghan con Netflix a qualcosa inventato dalla mamma imprenditrice Kris Jenner. Il pubblicista di intrattenimento Mitchell Jackson ci ha detto. Questa è una mossa intelligente per i Kardashian di Windsor Palace. Il difetto di PR di Meghan e Ferri si è preso troppo sul serio quando sono davvero star della realtà, ha spiegato il fondatore di BCC Communications. Suits è spazzatura. E questo è in linea con lo stile di Suits, che è attualmente popolare su Netflix. Per avere successo, Meghan deve rendersi conto che è più simile a una Loan Kian attrice di serie A.